Buon pomeriggio a tutti, doveva parlare Maria, però non è potuta venire oggi, quindi cercherò di sostituirla nel miglior modo possibile. Oggi ho il compito di presentarvi ITEX. ITEX è un istituto di ricerca tessile che si trova al COI, in Spagna, praticamente tra le città di Alicante e Valencia, giusto metà strada. È un istituto privato nel quale attualmente lavorano all'incirca 240 persone, è un istituto senza animo di lucro, è stato fondato nel 1985 da impresari locali della regione valenziana e dal governo valenziano. Attualmente dopo trent'anni di lavoro con le differenti aziende, possiamo dire che è la referenza di quello che è l'innovazione e lo sviluppo tecnico dei prodotti in Spagna. Ok, cosa facciamo e come lo facciamo? L'obiettivo principale di ITEX è quello di generare un know-how e di trasferirlo alle ditte nazionali, europee, in modo da creare un miglioramento dei processi produttivi e dello stesso prodotto. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso diversi tipi di laboratorie e di unità tecniche che lavorano in diversi campi del tessile. Per esempio, qui ho posto solamente alcune, però abbiamo laboratori fisici e chimici, unità tecniche per quanto riguarda le superfici sportive e geotexili, sul comfort, igiene, balistica, settore automobilistico, indumenti di protezione, certificazioni come per esempio o ecotex. Abbiamo diversi gruppi di ricerca che si occupano dei progetti nazionali o europei. Tutto questo poi sfocia in quello che sono appunto dei miglioramenti sui processi di produzione, sull'aumento della qualità dei prodotti stessi, sullo sviluppo di nuovi prodotti e su certificazioni, come per esempio può essere il caso di oecotex. Ok, con TCBL ITEC sta lavorando in collaborazione con differenti partner, soprattutto del progetto Creativeware fino a questo momento, però a partire praticamente da ora siamo completamente disponibili e aperti a collaborare con tutti i partner di TCBL e a portare le nostre conoscenze tecniche sullo sviluppo dei nuovi materiali e per migliorare i vari processi di produzione. L'ultima slide riguarda un po' i lavori che stiamo facendo nell'ultimo anno dentro del gruppo di ricerca. Praticamente stiamo applicando nuove tecnologie come possono essere la tecnologia laser, la tecnologia di ozono e la tecnologia di microsprime per appunto ridurre i consumi di prodotti chimici e di acqua nei processi di finishing degli abiti. Questi sono alcuni esempi dei risultati che stiamo ottenendo e siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione e di informazioni che vogliate sapere. Grazie.